Ispo 2020, un nuovo capitolo della collaborazione della partnership Michelin e Nordica. La partnership tra questi due grossi brand è sempre stata caratterizzata dall'innovazione di prodotto e Nordica questa volta presenta uno stivale innovativo per il quale Michelin ha sviluppato con le proprie tecnologie una suola a contatto terreno e contatto sci innovativa. Su questo prodotto Michelin ha utilizzato le proprie tecnologie che mixano insieme il TPU con delle mescole particolari di gomma adatte a terreni viscidi e soprattutto a basse temperature. Questo prodotto permette una grande sicurezza di sgancio dello sci nel momento in cui si scia ma nello stesso tempo nel momento in cui si cammina su terreni scivolosi come neve, fango e ghiaccio la gomma e questa particolare mescola abbinata a questo design garantiscono una grande sicurezza nella camminata. Quest'anno Nordica ha voluto introdurre una nuova linea completamente differente dalle tradizionali e introduciamo la linea HF. La linea innovativa perché richiama un po' i vecchi concetti del passato di scarpe che sicuramente conoscerete, che però abbiamo voluto completamente rinnovare e reinventare per lo sciatore moderno che cerca una scarpa estremamente facile da calzare, ma allo stesso tempo performante, comoda, calda e sicura sulla neve. Le caratteristiche tecniche principali della linea HF quali sono? Sono la facilità della calzata che è data da un meccanismo super facile da aprire e da chiudere. Come vedete il volume di entrata è estremamente ampio e facile per far entrare qualsiasi tipo di gamba. La chiusura è altrettanto semplice e regolabile tramite una semplice rotellina che va a diminuire o a chiudere la parte posteriore del gambetto in maniera più precisa. Altro aspetto tecnico molto importante che è proprio correlato alla comodità e alla sicurezza che vogliamo dare con questa linea di prodotti è la suola in gomma che abbiamo sviluppato in copartnership con Michelin, nostro partner ormai da molti anni e molte stagioni, con un compound dedicato e un grip dedicato per la caratteristica di questo tipo di utilizzatore. Quindi sicurezza, grip e comfort anche sulla neve. Altro importantissimo elemento che è correlato direttamente con il fit di questa scarpa è una scarpetta che ha un fit tradizionale, quindi con un'ottima tenuta a tallone e che specificatamente sui modelli elite, sia uomo che donna, ha la caratteristica di avere la regolazione della temperatura che è data direttamente da un'applicazione che si scarica dal proprio telefonino. In copartnership con Thermic abbiamo sviluppato la scarpetta che può essere riscaldata e di conseguenza aumentare il livello di comfort anche nelle giornate più fredde.